Prima di cominciare con il video volevo ricordarvi che l'un di prossimo annunceremo il prossimo vincitore della giveaway dove daremo criptovalute gratis e ho notato che più del 50% delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte al canale, se volete partecipare alla giveaway e vi piacciono i nostri contenuti che portiamo assicuratevi di iscrivervi e vi spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare alla giveaway e adesso cominciamo con il video e buona fortuna a tutti. Ragazzi è successo proprio ora siamo alla linea arancione e che cosa significa questo? Sembra che ogni giorno che pubblico questi video il prezzo di Bitcoin fa un altro piccolo passo ma questo non è un passo qualsiasi in realtà è proprio sulla linea arancione e oggi parleremo di che cosa significa questo per quanto riguarda Bitcoin e parleremo anche di alcune preoccupazioni che ho per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin in questo momento, ovviamente parleremo anche di Ethereum, parleremo anche di Cardano e ovviamente del mio trade qui su Femex. Quindi bentornati a tutti ragazzi, mi chiamo Marco, portandovi un video riguardo alle cripte ogni giorno, mostrandovi come fare soldi in questo tipo di mercato, se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi e di attivare anche la campanella. E detto questo ragazzi andiamo direttamente a parlare per quanto riguarda Bitcoin e quello che possiamo vedere qua sopra è che vi ho preparato appunto per la grande linea arancione che abbiamo qui e potete vedere che il prezzo di Bitcoin ha visto una salita ieri proprio sul dolore esatto della mia linea arancione. Ci siamo incontrati, proprio come ho detto, questo avrebbe agito come un muro enorme di cemento e siamo stati rifiutati molte volte, diciamo come possiamo vedere qui. Abbiamo avuto un rifiuto bensì di 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 volte totali, lo vediamo da queste candele e questo è semplicemente ridicolo e questo è proprio sul dollaro esatto. Se questa linea arancione vi è stata utile per il trading, se questo avviso sulla linea arancione vi è stato utile, bene, assicuratevi anche di mettere un mi piace a questo video e oggi parleremo anche dei diversi scenari che potrebbero accadere qui. Ovviamente stavo parlando anche di un rifiuto, ieri avremmo visto una sorta di reazione dalla linea arancione e ora abbiamo visto solo un piccolo pullback che sarà del 4% totale o addirittura forse anche meno, potrebbe essere un pullback del 2%. Quindi Bitcoin sembra ancora davvero molto bullish e come sapete sono bullish per quanto riguarda Bitcoin personalmente, credo che stiamo per superare i nostri precedenti massimi storici, ma proprio in questi punti della mia linea arancione e delle mie fasce arancione mi aspetto sempre qualche tipo di reazione perché abbiamo avuto solo il 2% in questo caso, quindi va benissimo. E ora anche questo ovviamente è proprio come ho detto ieri tolta la liquidità dagli altcoins e anche da Ethereum compreso, quindi Ethereum è effettivamente diminuito un po' diciamo in questi giorni e questo non è stato anche un buon fatto per quanto riguarda gli altcoins perché Bitcoin è stato il riflettore in questo momento e sta solo drenando tutta la liquidità dagli altcoins, ma terrò il mio trade per quanto riguarda Ethereum seguendo diversi scenari proprio come ho detto ieri e assicuratevi di tornare indietro a guardare quel video se volete sapere perché terrò il mio trade aperto di Ethereum. Comunque continuerò ad aggiungere margine qui per abbassare il mio prezzo di liquidazione perché credo fermamente che una volta che Bitcoin avrà finito con la sua corsa allora tutti quanti gli altcoins inizieranno ad aumentare. Ebbene allora Ethereum aumenterà penso fino ad almeno 4.000 dollari, probabilmente andrà anche molto più in alto ed ecco perché trovo il mio trade aperto e questo è quello che sto facendo personalmente. Ora se riusciamo a superare questo livello ovviamente poi mi aspetto che il livello successivo per quanto riguarda Bitcoin sarà in realtà a 59.000 dollari e 200 quindi il livello sopra la fascia lancione che abbiamo proprio qui. Di seguito poi abbiamo sopra questo livello a 59.000 dollari e 200 abbiamo anche il livello a 61.200 e dopodiché abbiamo il precedente massimo storico a 63.500 e andiamo a chiamarlo 64.000. Quindi una cosa che è un po' preoccupante in questo momento è che volevo dirgli che se guardiamo l'SP500 e i mercati tradizionali diciamo che non stanno andando alla grande potrei vedere che i mercati tradizionali sulle candela 4 ore sono in calo da un paio di giorni ormai quindi voglio dire i mercati tradizionali stanno scendendo mentre in realtà Bitcoin invece sta salendo. In effetti se sottolineiamo solo i mercati tradizionali in questo caso l'SP500 la linea blu con il prezzo di Bitcoin allora possiamo vedere che vanno in modo abbastanza simile ma in tratti più ampi qui ma se ingrandiamo il tutto in questo momento possiamo vedere che abbiamo una discrepanza molto chiara sull'SP500 che sta scendendo mentre Bitcoin sta salendo. Ora questo non è in solito in effetti è qualcosa di cui stavo anche parlando quando abbiamo visto l'SP500 salire mentre Bitcoin stava in realtà scendendo quindi lasciate che vi mostri. Quindi possiamo vedere che se rimpiccioliamo il tutto mentre Bitcoin stava scendendo da 64.000 dollari fino a 30.000 dollari l'SP500 in realtà stava effettivamente salendo quindi potrei vedere che Bitcoin stava scendendo mentre l'SP500 saliva e questo è qualcosa che ci aspettavamo ma questo è solo qualcosa di cui voglio prendere nota perché lo stiamo effettivamente vedendo proprio adesso e ovviamente questo significa solo che più persone sono bullish per Bitcoin più persone acquistano Bitcoin invece che acquista l'SP500 e dove i rendimenti in generale non sono così alti e non deve essere necessariamente qualcosa di negativo in effetti quando Bitcoin va in queste corse ovviamente supererà notevolmente l'SP500 quindi come potete vedere l'SP500 stava salendo un po' ma Bitcoin stava diciamo salendo ancora di più. Quando dovete iniziare a prestare attenzione se diciamo vediamo scendere l'SP500 e diciamo in quel caso se continua a scendere ancora di più dobbiamo prestare molta più attenzione ma vedremo Bitcoin salire ancora di più ed è sfortunato perché credo che la fiducia nei mercati tradizionali sia molto utile per Bitcoin mentre entriamo nel nostro massimo storico precedente e continuiamo la corsa a rialzo e ora l'SP500 continua a scendere sarà come una coperta bagnata sul fuoco che invece è il prezzo di Bitcoin se ha senso diciamo. Comunque sia vi terrò aggiornati ragazzi su questo e volevo solo farvelo notare niente di cui preoccuparsi a questo punto e solo se continua così partiremo da lì e vi terrò aggiornati su questo insomma nei video successivi. Comunque sia per essere chiari mi aspetto ancora che Bitcoin vada davvero molto molto bene in futuro e adesso per Cardano Cardano sta andando giù e sta solo consolidando non sta accadendo niente di speciale mi aspetto un consolidamento tra la linea arancione che abbiamo diciamo a 2 dollari locali e la linea che abbiamo a 2 dollari e 30 centesimi. Quindi questo è il consolidamento e poi alla fine di solito vediamo una grande salita per quanto riguarda Cardano e ora c'è un tipo di formazione che è abbastanza visibile proprio qui potete vedere che questa linea di tendenza che abbiamo appunto minimi più alti e quindi è bello vederlo ragazzi e se volete fare trading anche voi stessi con la liquidità che è la volatilità che abbiamo avete 1200 dollari su Femex inoltre avete anche 610 dollari su Bybit e 2200 dollari su Citrade quindi assicuratevi di trarre profitto se volete ragazzi. Adesso stoppa un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente iscrivervi al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quindi quale pensate che sarà il nuovo massimo storico di Ethereum in questo burron fatemi sapere nei commenti e per favore inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain così possiamo inviarvi le cripto se vincete e adesso continuiamo con il video e grazie mille come sempre per la visione di questo video e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti.